Io sono Francesco Mazzini, sono un tecnico del suono che proviene dal mondo del live, anche se in realtà quando si parla di suono, parlare di live è molto riduttivo, quindi ho fatto tanto nella vita, ho fatto conferenze, ho fatto teatro, ho fatto grandi eventi e piccoli. Sono qua in Cina per conto di Audiolab System e per conto di Hating Sound, che è una ditta italiana che produce altoparlanti di altissima qualità, soprattutto per i sistemi professionali. Abbiamo deciso di venire fin qua perché il mercato asiatico è sempre più interessante per quel che riguarda soprattutto i prodotti come i nostri che mirano a dei target molto elevati. Se prima in Cina e in generale il mercato cinese era considerato un mercato magari un po' di secondo piano, per quel che riguarda la qualità, negli ultimi anni si sta sviluppando un'attenzione sempre crescente per quella che è l'alta fascia della produzione audio-video, luci e di tutto il mercato in generale. Abbiamo deciso di portare qui alcuni dei prodotti di Hating Sound, prodotti di varie fatture, abbiamo portato uno dei nostri principali woofer, il TLV3000, abbiamo portato un medio in neodimio e alcuni compression driver con le loro guide d'onda, giusto per dare una rappresentanza di tutta quella che è la produzione in generale di Hating Sound, fare vedere un pochino tutta la gamma di prodotti che ovviamente sarebbe stato difficile portare qua in toto. Abbiamo deciso di partecipare non solo a livello fieristico ma anche presentando dei seminari per conto di audio forum, seminari che ci hanno molto soddisfatto perché abbiamo avuto la possibilità di parlare molto più nello specifico, diciamo così, di quello che è la potenzialità di utilizzazione dei prodotti e in generale di tutto ciò che c'è dietro al mondo dell'audio e che di solito l'utilizzatore comune non conosce, quindi addentrare un pochino di più, addentrarci un pochino di più all'interno di quelle che sono le potenzialità del nostro lavoro, far capire un pochino di più quello che c'è dietro.